buongiorno a tutti allora oggi purtroppo non ho fatto video o meglio ieri che era venerdì ma non perché era il primo maggio eccetera perché ho fatto un disastro praticamente vi avevo detto erano arrivati due non uno due è vero che li ho pagati come se fosse uno solo però sono arrivati due toner per la stampante inserisco il toner e la stampante non funziona la stampante non funziona la stampante non funziona finalmente sembra che il toner sia andato a posto eccetera cioè tutto a posto snuce verde primo non va faccio anche solo per stampare un foglio mettendolo sotto non va vado a vedere un tutor mi rendo conto che probabilmente la motivazione è quella cosa faccio smonto la la cosa faccio un disastro alla fine non era neanche quello quindi temo che ahimè la stampante era da cambiare anche perché tendenzialmente dovrebbe avere 12 anni e quindi è anche giusto dopo 12 anni prenderne una nuova penso che sia sono una delle persone che le cose gli durano più di tutti anche perché tendenzialmente a me piace finché una cosa va non sono uno che usa un vestito poi ma no l'ho già usato non lo uso più no c'è ancora delle magliette degli abiti che usavo quando avevo vent'anni e li uso ancora vanno ancora benissimo perché li tratto bene lì c'è una camicia che io adoro alcuni piace alcuni non piace punti di vista da mascata eccetera una libidine però vabbè e quindi ahimè oggi sono stato lì a trafficare con con la stampante quindi poi alla fine ero talmente depresso tra virgolette perché dico vabbè l'ho già presa quella nuova una hp pagata poco tanto a me sarebbe giusto per fare le mie belle fotocopie in bianco e nero che si colleghi con col computer per poter stampare arriverà non so quando l'ho presa da un euro vedremo comunque detto questo volevo raccontarvi di un episodio di CSI che mi ha lasciato come si suol dire con la mano in bocca perché riguarda una questione più da love and order l'episodio love and order eccetera e non da CSI perché riguardava lo stupratore seriale praticamente cos'è successo telefonata al 911 che avvisa che verrà trovata una persona morta con due con tre colpi addosso e picchiata e dicono tra quando quando è successo dove si trova succede adesso no voce maschile voce maschile vanno e trovano appunto questa questa persona morta proprio come è stata descritta eccetera e si rende un conto che è l'autore di almeno cinque stupri poi nel proseguo della della questione scoprono che lui aveva ben dieci ciocche di capelli questo che è stato ucciso quindi voleva dire che ne ha stuprate dieci ma solo cinque lo hanno denunciato le altre cinque non hanno detto niente e poi si dipana tutta la storia viene arrestata una delle delle ragazze che era stata poi che ha denunciato appunto questa persona perché pensano che sia collegata e invece poi non c'entra niente perché mentre lì in custodia un altro stupratore che però era stato condannato a cinque anni era uscito di galera a sua volta viene ucciso nella stessa maniera però stavolta lui riesce a difendersi perché il modus operandi di questi giustizieri che poi si vedrà che sono giustiziere era il medesimo gli spruzzano il peperoncino una fa da esca l'altra gli spruzza il peperoncino quando stando nascosta nell'ombra questo naturalmente gli arriva il peperoncino addosso e l'altra ragazza scusate lo picchia perché per di più questa è una che si allena a fare kickboxing eccetera quindi è una che che mena lo legano lo uccidono eccetera solo che stavolta lui il peperoncino non gli dà fastidio quindi salta addosso alla persona che gli ha che lo voleva picchiare ma interviene l'altra e gli spara e lo elimina quindi lo lasciano lì così però lasciano lì delle prove eccetera vengono incriminate alla fine e c'è quella che era in galera che dice loro hanno provato a difendermi eccetera non è giusto tra l'altro una delle due era anche l'avvocatessa era quella che difendeva questa ragazza e quindi lei dice non è giusto che loro vengano condannate perché comunque hanno tolto dalla 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 dalle vabbè ci siamo capiti hanno tolto due persone che come direbbe morati a essere buoni sono poco simpatiche io userei un altro termine ma vabbè e giustamente c'è poi il discorso finale tra le due poliziotte no che gli dicono che si dicono a vicenda ma come come facciamo a tutti i giorni a vedere la gente onesta eccetera che sopporta 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 e spesso e volentieri vede le persone che o per un cavillo o per la prescrizione o per questo per quell'altro che hanno commesso magari dei reati anche grossi che vengono liberate e la vittima che vede colui che gli ha fatto del male o i genitori della vittima che magari non c'è più vedono libero quello che tutti sanno che è stato lui ma per il cavillo magari viene liberato o magari gli danno tre anni quattro anni cinque anni in america parlo di america che in italia se gli danno cinque anni è fuori subito e fa come fai a resistere e non farti girare perché purtroppo dobbiamo fare le persone serie siamo poliziotti eccetera quindi dobbiamo fare i poliziotti arrestare chi commette crimini a prescindere a prescindere quindi anche se commetti un crimine a figli bene perché questo io infatti mentre sentivo loro che dicevano eh dobbiamo arrestarli eccetera io dicevo cazzo resti dagli la medaglia cosa cazzo arresti però purtroppo in america è così io ricordo un episodio di storia vera non di storia di uno stupro avvenuto in spiaggia in una spiaggia americana in cui questa ragazza qua era stata minacciata con la pistola portata in spiaggia questi hanno fatto quello che dovevano fare poi ha lasciato lì la pistola si stava stavano bevendo allegramente perché pensava anche tanto lei era lì mezza rincoglionita perché poverina gliene avevano fatte di tutti i colori questa ha preso la pistola mi sembra che ne ha ucciso uno e ferito gli altri due o magari li ha uccisi non lo so alla fine gli hanno dato cinque anni perché per la legge non era più legittima difesa ma vendetta rendiamoci conto cioè lei non poteva o lo faceva non lo poteva fare prima perché sennò era potevamo dire che loro non erano intenzionati a fare una cosa del genere quindi lei li aveva uccisi apposta per un per un suo capriccio quello che vuoi se lo fa dopo è vendetta mi spiegate come fa a farlo durante come fa una ragazza a difendersi da tre persone mentre la stanno le stanno facendo del male eccetera quindi la legge vabbè comunque io rimango sempre basito davanti a questi episodi sto mi sto facendo una cultura tra CSI e love and order che è un top però se non altro in america loro partono subito ti sparano secco 25 10 15 20 25 anni cioè non è che stanno lì un anno due anni tre anni eccetera quando ci sono cose gravi sparano dai 25 all'ergastolo sempre secco in italia fai anche una cosa grave ma è stata una ragazzata io me lo vedo anche spesso nelle situazioni quando muore il carabiniere come è successo ne parlerò in uno dei futuri adesso qualche giorno fa è ahimè morto un carabiniere che stava sventando una rapina cordoglio 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 se lo stesso carabiniere che tentava di sventare una rapina anziché morire lui seccava uno dei rapinatori eccetera ecco abbiamo il giustiziere e questo e quell'altro poi metti caso pure che qualcuno di quelli che hanno fatto una rapina fosse minorenne poi basta apoteosi delle apoteosi boh vabbè signori io rimango sempre più basito siamo sempre più rintanati in casa arriverà anche la stampante nuova speriamo in benva perché oramai boh non ho più parole non ho più veramente parole speriamo di riuscire a uscire un attimino di più oggi stavo parlando dalla finestra con l'altro mio amico due minuti e vabbè speriamo in benva poi sto continuando a sentire che uno la pensa in un modo le regioni fanno un po' quello che vogliono ve l'ho detto siamo nel caos nel caos più totale ma speriamo in benva speriamo che sia solo perché l'anno bisesto l'anno funesto e che vabbè siamo in maggio siamo quasi a metà io vi saluto vi ringrazio guardate sono depresso no perché non non è una cosa che 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 mi accade vivo day by day come dicevo l'altro giorno nella mia diretta vivo day by day ogni giorno mi sveglio sono contento di essere vivo e cerco di viverlo al meglio magari facendovi qualche video che vi possano fare riflettere o che cosa per quei pochi che lo vedono qualcuno ha detto non è giusto che dici è però purtroppo è così io sono ben felice che qualcuno lo guardi se poi qualcuno ha da obiettare o che cosa ci mancherebbe basta che siate sempre educati se qualcuno non la pensa come me mi dice gigi non la penso come te per questo 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 motivo e io lo accetto volentieri basta che non offendete non è assolutamente un problema detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao